Perché è importante il fluoro? Il fluoro è importante perché è l'elemento che rafforza lo smalto dei nostri denti e combatte il principale batterio responsabile della carie. Forse qualcuno non lo sa, ma è una delle patologie più diffuse al mondo. Noi igienisti dentali possiamo aiutare a rinforzare lo smalto dei denti attraverso un semplice procedimento in studio, chiamato fluoroprofilassi. Come funziona l'affloroprofilassi? Applichiamo il nostro gel a base di fluoro su queste mascherine di gomma che teniamo per qualche minuto in bocca affinché il fluoro venga assorbito dallo smalto. È importante ripetere questa procedura nel tempo, magari iniziando già in tenere età, ma anche in quel gruppo di pazienti particolarmente esposti a rischio di carie, come per esempio pazienti portatori di apparecchi ortodontici oppure pazienti disabili. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro blog www.compagniairis.it design 1509 per armoni www.compagniairis.it www.compagniairis.it Grazie a tutti.